Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In primo piano il sit-in che si è tenuto questa mattina in via Conte di Ruvo a Pescara sotto l'assessorato alla sanità. Medici in sciopero per i tagli alla sanità. Il servizio è di Paolo Renzetti. Sciopero nazionale dei medici in Italia. Oggi c'è un presidio a Pescara in via Conte di Ruvo. Quali sono i motivi di questa protesta? Noi siamo veramente delusi da questo governo. In una finanziaria di 20 miliardi dove si sono trovati bonus per qualsiasi cosa, sino anche per la protezione degli orti e dei giardini, non si è trovato un euro per rifinanziare il sistema di servizio sanitario nazionale. Questa è veramente una grande delusione e un'ennesima dimostrazione della considerazione che il governo ad ogni livello ha dei suoi medici. La sanità pubblica è al collasso. Sono otto anni che i medici non hanno più un contratto di lavoro. Il contratto è stato bloccato da otto anni. È un rimpallo di responsabilità del governo e delle istituzioni ad ogni livello. In Abruzzo la situazione è semplicemente disastrosa. Lei pensi che dal 2010 ad oggi 9 mila medici usciti dal lavoro non sono stati rimpiazzati. Se lei gira negli ospedali vedrà degli interi reparti che non hanno organico e quelli che sono rimasti devono supplire ai colleghi che sono andati via in pensione o per altri motivi. E ogni qualvolta c'è un disservizio non c'è nessuno che voglia implicare le responsabilità, addebitare le responsabilità alle condizioni di lavoro a chi dovrebbe fare e non fa. I medici sono sempre gli unici responsabili. Noi diciamo basta. Ripeto, è solo una prima iniziativa. Ce ne saranno delle altre. E concludo dicendo con rammarico che l'Italia fino a qualche tempo fa era un'eccellenza della sanità, cosa abbastanza rara nella nostra nazione. Noi eravamo addebitati come una sanità di eccellenza, tra le prime del mondo. E questo io penso grazie anche ai medici italiani. Oggi siamo al collasso. L'esperimento SOX conosce una battuta d'arresto. Nel giorno in cui all'interno del Consiglio regionale si discute della pericolosità dell'esperimento previsto all'interno dei laboratori del Gran Sasso e delle misure da adottare per mettere in sicurezza i laboratori di fisica nucleare, l'Istituto fa sapere che nell'ambito delle verifiche previste sull'avanzamento del progetto SOX, nei giorni scorsi si sono incontrati a Mosca rappresentanti della collaborazione SOX di CEA, dell'INFN e di PAMAYAK. Durante l'incontro, secondo la nota dell'Istituto, è emerso che i produttori russi della sorgente radioattiva stanno incontrando delle difficoltà tecniche a garantire gli standard scientifici richiesti perché la sorgente non è in grado di produrre il numero di antineutrini necessario per il progetto SOX e dunque non è idonea per i fini scientifici dell'esperimento. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, conclude la nota, sta lavorando per valutare una soluzione a queste difficoltà tecniche ma questo inconveniente comporterà un ritardo rispetto alla programmazione dell'esperimento. Cambiamo pagina, prosegue la vertenza Honeywell di Atessa, stabilimento destinato a chiudere nel 2018. I sindacati continuano a trattare con l'azienda per gli incentivi all'esodo mentre al Mise si lavora per cercare imprenditori per la riconversione della fabbrica. Il servizio di Alfredo Primante. L'avvertenza della Honeywell di Atessa prosegue su due binari paralleli dopo che l'azienda ha annunciato la chiusura dello stabilimento di turbocompressori in Val di Sangro a primavera del prossimo anno. Da un lato al Ministero dello Sviluppo Economico resta aperto il tavolo per cercare un compratore ed avviare una riconversione che salvaguardi, se non tutti i 420 posti di lavoro, buona parte di essi. D'altra parte proseguono le trattative tra sindacati e multinazionale americana per quella che i rappresentanti dei lavoratori chiamano una buonuscita, altrimenti detta incentivo all'esodo. Una sorta di buonuscita per accompagnare le persone, da una parte quelle che vogliono andare via e hanno già in mente di fare altro, dall'altra parte coloro che invece resteranno qui a studiare, a monitorare insieme a noi l'opportunità di una riconversione. Dopo due mesi di sciopero i lavoratori sono tutti tornati all'interno della fabbrica per proseguire il proprio lavoro, così come hanno fatto per 25 anni. I sindacati, se da una parte hanno ormai chiaro che l'azienda non tornerà sui suoi passi, d'altro canto non vogliono mollare sul fronte salvaguardia dei posti di lavoro, anche perché se ci dovesse essere una sola possibilità di riconversione, i tempi sono comunque destinati ad essere lunghi. Riconversione è difficilissima perché non c'è nulla di scontato e soprattutto i tempi sono molto lunghi e non compatibili con gli ammortizzatori sociali che scadono al 2 di aprile. Dire quante speranze ci sono è un po' complicato. Noi pensiamo che se lavoreremo bene, se il Ministero lavorerà bene, qualche impresa, tra l'altro il Ministero ne ha già individuate tre, qualche impresa pronta ad investire sicuramente la troveremo. Crollo nella notte in un fabbricato in via Paganica all'Aquila, nessun ferito. Il sindaco Biondi ordina la demolizione urgente. Si trattava di una via già interdetta al traffico veicolare. Tanti buchi neri nel centro storico, ammette il primo cittadino. Daniela Rosone. Un palazzo già gravemente danneggiato dal sisma, un palazzo vincolato. In questo momento su via Paganica c'è il sindaco, c'è l'assessore alle opere pubbliche, ci sono anche i tecnici del comune dell'Aquila. Arriverà anche la sovrintendenza per verificare la situazione. Sicuramente il palazzo sarà abbattuto. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha ordinato la demolizione del fabbricato al civico 22 di via Paganica dopo il crollo nella notte di una porzione di stabile in piena zona rossa, già interdetta peraltro al traffico veicolare. Accedere non è stato un puntellamento, ma una parete già gravemente compromessa e che già era stata oggetto di verifiche. La porzione non era stata oggetto invece di opere provvisionali di messa in sicurezza. Beh, è successo che c'era una parete già semicrollata a seguito del terremoto del 2009, per cui non erano state previste opere provvisionali e questa notte c'è avuto un ulteriore crollo probabilmente derivato dal vento o comunque dall'ammaloramento delle pareti. Adesso abbiamo deciso con i vigili del fuoco di aumentare i presidi di interdizione all'accesso perché comunque si tratta di un fabbricato localizzato in zona rossa e quindi in un'area già non accessibile. Con la sovrintendenza, trattandosi di un fabbricato vincolato, abbiamo deciso di fare un'ordinanza urgente al Presidente del Consorzio per la messa in sicurezza, per la demolizione controllata della porzione interessata e per consentire anche ai palazzi di fronte e di lato di continuare a lavorare in sicurezza perché si tratta di palazzi di cantieri già aperti. Sul posto sin dalle prime ore della mattinata è il Sindaco, il Vice Sindaco, i tecnici del Comune e la sovrintendenza della Municipale, in quanto il palazzo era vincolato. Con i vigili del fuoco si è deciso di posizionare ulteriori barriere per rinforzare la sicurezza. Il Consorzio, ora dopo l'ordinanza urgente del Sindaco, dovrà tenersi all'ordine in tempi rapidissimi. Purtroppo nel centro ci sono tanti buchi neri a causa delle lungaggini burocratiche, ammette Biondi e del tempo che passa. Questo è il problema già rilevato più volte della ricostruzione con i buchi neri per pratiche che scontano delle lungaggini eccessive e soprattutto perché non ci sono strumenti in mano all'amministrazione comunale per prevedere un regime sanzionatorio nei confronti di chi, non parlo della fattispecie specifica, di chi perde troppo tempo nel presentare le documentazioni richieste dagli uffici. Il nuovo processo organizzativo delle ARPA, le agenzie regionali dell'ambiente, verso la costruzione operativa della rete e del sistema nazionale. Questo è il tema del convegno promosso oggi a Pescara dall'Arta Abruzzo. Oggi a Pescara sono presenti tutti i colleghi direttori delle ARTA delle altre regioni. Discutiamo di quale impronta organizzativa davano per il futuro e per i prossimi anni ad ARTA in modo da avere significativamente un'organizzazione di livello nazionale su cui poi andare ad innestare l'organizzazione locale tramite leggi regionali di ricepimento e tramite gli regolamenti organizzativi proprio di ARTA Abruzzo per cercare di migliorare e dare un contributo maggiore sempre al fine ultimo di tutelare l'ambiente rispetto a tutte le matrici, l'aria, la qualità delle acque, penso al Gran Sasso, oppure per la qualità del suolo, penso a Bussi. Un ruolo centrale quello comunque di ARTA anche per queste tematiche molto molto importanti e sensibili? Assolutamente, centrale ed obbligatorio. L'istituzione ARTA nasce e deve lavorare proprio per questo. Il fine è dare il risultato scientifico, obiettivo, a tutti i procedimenti che interessano l'ambiente, ovunque esso si manifesti. Noi monitoriamo i corsi d'acqua, monitoriamo il mare, voi lo sapete, insomma quest'estate abbiamo tenuto sotto controllo pressoché quotidianamente il mare, monitoriamo tutti i corsi d'acqua principali, i laghi, i due laghi sono balneabili, quindi il ruolo di ARTA è determinante considerando anche che oggi non può esserci uno sviluppo economico se non sostenibile dal punto di vista ambientale. Quindi la difficoltà e la missione di ARTA nei prossimi anni sarà quella di far convivere simultaneamente le due necessità, cioè sviluppo economico, opportunità per la regione Abruzzo e tutela dell'ambiente. Le alte temperature di questi giorni potrebbero far schiudere le uova di zanzara e far tornare il rischio per uomini e animali di una pericolosa malattia virale detta West Nile. L'Istituto Zooprofilattico di Teramo, incaricato della sorveglianza e del controllo di malattie esotiche, ha organizzato una giornata di studio proprio su questo tema. Tania Bonici Castelli. A distanza di quasi 20 anni dalla prima identificazione in Italia, il virus della West Nile, malattia che si trasmette attraverso una puntura di zanzara, continua a rappresentare una sfida per tutti gli operatori del sistema sanitario coinvolti nelle attività di sorveglianza e controllo. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, in qualità di centro di referenza nazionale per l'accertamento delle malattie esotiche degli animali, ha indetto una giornata di studio proprio sulla West Nile Disease, un incontro tra ricercatori italiani per fare il punto sulla diffusione di questa pericolosa malattia. È una malattia che, come dice il nome, viene dall'Africa, di origini africane. Però, come tante altre malattie africane, purtroppo raggiunge anche il nostro paese. E come si trasmette? Si trasmette principalmente attraverso le zanzare, quindi praticamente siamo a rischio in tutto il paese. Ed infatti è una malattia che circola, un virus che circola in tante aree, in tante regioni. Colpisce gli animali e gli uomini? Colpisce gli animali e gli uomini. Purtroppo è una zonosi. È una zonosi che ogni anno dà decine di casi nell'uomo, talvolta con forme neurologiche anche gravi, che possono addirittura portare alla morte. In Italia quali sono le zone più a rischio? Le zone più a rischio alla fin fine sono un po' tutte. Certo, per le persone che ci vedono in televisione, dove ci sono le zanzare c'è il rischio maggiore. Quindi sicuramente dove ci sono ristagni d'acqua sono zone a rischio. Una temperatura elevata è una realtà a rischio. Ma anche queste temperature di questi giorni possono far ripartire una generazione di uova, di zanzare che rimangono nel terreno e che a un certo punto, viste le condizioni ambientali idonee, possono svilupparsi. I cambiamenti climatici possono estendere gli areali delle zanzare stesse. Cioè nel senso che la temperatura, mettendo la temperatura media, abbiamo presenza di zanzare in areali dove fino a qualche anno fa non c'erano. Tutto pronto a Francavilla al mare per l'inaugurazione del nuovo Palazzo Sirena. L'annuncio oggi del sindaco Antonio Luciani che lavora alla città del futuro. Vediamo. Sono giorni importanti quelli prima di Natale per Francavilla al mare sindaco perché il 15 dicembre ci sarà l'inaugurazione del nuovo Palazzo Sirena e poi state proseguendo con i lavori allo stadio Valle Anzuca. Siamo arrivati all'inaugurazione del Palazzo Sirena, un palazzo che risorge dalle ceneri. È stata dichiarata, questa opera architettonica è stata dichiarata di elevato valore culturale. Un'opera progettata da Mosericci, un pronipote di Francesco Paolo Michetti e che ora campeggia all'interno della piazza Sirena che sarà ancora da ristrutturare. La piazza invece per quanto riguarda il Palazzo Sirena contiene un auditorium sirena perfettamente rinnovato, abbiamo speso oltre 500 mila euro per farlo e il 15 questa struttura apre le sue porte ai cittadini di Francavilla e non solo. Diventerà il nostro polo culturale, sarà un centro congressi, ci si potrà fare del teatro, della musica, del cinema, 300 posti a sedere che rilanceranno l'economia del centro città esattamente come avevamo immaginato. A proposito di stadio, invece i tifosi di Francavilla vogliono sapere, Sindaco, quando il Francavilla potrà tornare a giocare le gare casalinghe nel suo stadio? Nella prima giornata utile, questo lo prometto, pace fatta con il presidente Gilberto Candeloro che è una grande persona, che ci ha promesso che porterà la squadra, vuole fare calcio, lo vuole fare in maniera importante, lo vuole fare a Francavilla. Ha promesso che farà di tutto per portare la squadra nei professionisti e quindi noi ci metteremo il nostro come amministrazione, gli staremo vicini, anche qui giorno dopo giorno, anzi il 15 forse sarà l'occasione anche per invitare il presidente Candeloro a questa nuova inaugurazione nella nostra città perché lui deve diventare necessariamente il nostro cittadino onorario, già lo è in definitiva. L'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci ha illustrato oggi lo schema del bilancio di previsione 2018-2020 della regione Abruzzo. Vediamo. Un bilancio solido perché sono puntuali sia la scrittura delle entrate e quindi coerenti, sia quelle delle uscite. In secondo luogo è un bilancio che mette dentro la norma Salvabruzzo, che libera risorse soprattutto per finanziare il trasporto e a maggior ragione il sociale, e che finalmente costruisce per quanto riguarda la nostra regione un impianto di programmazione delle risorse finanziarie che seppur ancora molto ristretto perché è un bilancio rigido per via del disavanzo e dell'indebitamento passato finalmente mettono in campo diverse iniziative che possono essere molto utili sul fronte delle attività deproduttive, le attività culturali, le attività sociali e quelle riguardanti la mobilità. L'altro tema che va sottolineato di questo bilancio è che in questi anni l'indebitamento è sceso non è stato acceso nessun mutuo come tutto il cartaceo documentato e documentabile del bilancio e i suoi allegati dimostrano e allo stesso tempo è sceso anche il disavanzo che è passato dai 770 milioni al momento dell'ingresso di questa nuova legislatura ai 680 attuali. Così l'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci, che ha presentato a Palazzo delle Micicoli il bilancio di previsione 2018 approvato dall'Aggiunta e che dopo il passaggio in commissione dovrà approdare entro l'anni l'Aula per l'approvazione. Un bilancio complessivamente da 6 miliardi e 14 milioni di euro di essi 2 miliardi e 779 mila euro riguardo il perimetro della sanità. Il bilancio regionale al netto di tale perimetro della sanità è dunque di 3 miliardi e 235 milioni di euro. Tolta questa somma alle partite di giro la spesa regionale effettiva è dunque di 1 miliardo e 196 milioni di euro. Di questa cifra le spese vincolate ammontano a 783 milioni di euro in particolare per confinanziare programmi europei. La spesa obbligatoria ammonta invece a 258 milioni di euro. Le voci più consistenti saranno anche quest'anno 78,7 milioni per quote capitali, mutui e prestiti 78,5 milioni per il personale 60,2 milioni per interessi passivi 22,9 milioni per acquisto di beni e servizi. La restante parte della spesa sottratta cioè alla spesa obbligatoria a quella vincolata sarà pari infine a 153 milioni e 579 mila euro ed è questa la cifra che consente un'effettiva libertà di manovra suddivisa tra le macrovoci di cui si compone il bilancio regionale. Tra queste voci la più consistente sarà quella del Fondo Unico per i Trasporti 45,2 milioni a seguire il funzionamento del Consiglio regionale 24,4 milioni il Fondo Sociale 11 milioni a cui si aggiungono però altri 9,7 milioni sempre per interventi nel settore sociale 11 milioni per le compensazioni degli eco-incentivi tra Stato e Regioni scorrendo la lista della spesa prevista spiccano poi 4,8 milioni per il settore agricolo 4,3 milioni per l'Azù 3,8 per la protezione civile 2,5 per il piano marketing dell'aeroporto di Pescara 1,1 milioni di euro per la cultura 5,6 milioni per indennizzi da vaccinazioni Quasi conclusa una rendicontazione che ha messo fine alla mancanza di questi accertamenti procedurali contabili di ben 12-13 anni l'ultima volta è stata fatta nel 2004 siamo noi che abbiamo messo mano a una rendicontazione così puntuale da rendere finalmente i nostri documenti molto più solidi molto più veritieri molto più trasparenti e i risultati ci hanno dato ragione adesso stiamo per approvare il rendiconto del 2015 è davvero questione di qualche giorno e poi subito dopo riallineeremo almeno in giunta tutti i documenti contabili concludendo anche l'attività del 2016 Le donazioni di sangue diminuiscono in maniera preoccupante per questo motivo il centro trasfusionale dell'ospedale Mazzini di Teramo ha lanciato una iniziativa artistica per diffondere la cultura della donazione e non solo di sangue ma anche di midollo, di cordone e di organi si dona sempre meno anche se di sangue se ne ha bisogno sempre più come fare dunque ad incrementare il numero delle donazioni il centro trasfusionale dell'ospedale Mazzini di Teramo ha ideato così un'iniziativa artistica all'interno del reparto per diffondere la cultura del dono esposizioni temporanee di pittori e scultori che trasformano gli spazi comuni in luoghi godibili dove familiarizzare e riflettere sull'importanza di donare una parte di sé che non sia solo sangue ma anche midollo, cordone ed organi Chi viene a donare qui all'ospedale Mazzini trova anche una bellissima mostra d'arte Sì, abbiamo pensato di vivacizzare questo luogo cercando di creare un momento così di coniugazione dell'arte con la solidarietà quindi con il nostro lavoro quotidiano ha avuto un successo enorme quindi pensa che domenica quando abbiamo aperto la donazione domenica 3 una giornata straordinaria di donazione sono afferiti 40 donatori che per noi è veramente tanto nel senso che è un giorno festivo per cui vuol dire che questa iniziativa è stata accolta dalla popolazione che naturalmente non ci delude mai con grande affetto e speriamo che nel futuro si possano prendere iniziative sempre in questo senso per aprire proprio queste porte dell'ospedale e creare questa osmosi tra il territorio e l'istituzione ospedale Come vanno le donazioni? Purtroppo in Italia si registra una flessione molto drammatica delle donazioni di sangue stiamo cercando di lavorare su nuove forme di messaggio sull'aspetto psicologico soprattutto comunicativo quindi è importante capire il perché e soprattutto come fare per far rinascere questa voglia di donare sicuramente è un periodo difficile però noi ci stiamo dando da fare anzi grazie anche a voi che siete così sensibili e ci sostenete con queste forme di messaggio diretto sulla popolazione perché funzionano E ora la pagina dello sport doppia seduta odierna per il Pescara in vista della partita delicata di domenica ore 17.30 contro il Novara i biancazzurri devono vincere per interrompere la serie no e permettere a Zeman di salvare la panchina altrimenti a rischio il tecnico boemo però deve fare i conti con una lista molto lunga di assenti mancheranno Bovo Balzano Selasi Proietti Latte Latte e Culibali che stanno svolgendo lavoro differenziato mentre sono fermi i vari Campagnaro Pigliacelli e Gans Valzania è stato fermato per una partita dal giudice sportivo in questi giorni è assente dal poggio anche l'attaccante Capone che tornerà a lavorare in gruppo da giovedì il giovane scuola Atalanta è ora con l'Under-19 con cui domani a Brescia sfiderà in amichevole i parietà della Finlandia problemi dunque centrocampo reparto nel quale Zeman al momento dispone di soli tre elementi Brugman, Carraro e Canutè sarà quasi certamente quest'ultimo a giocare in regia con Carraro dirottato mezzala nel Novara è stato appiedato il difensore Mantovani che sarà rilevato da Delfabro mancheranno Chiosa e Tartaglia Sansone e Calderoni nei prossimi giorni torneranno in gruppo ma difficilmente saranno impiegati nell'undici titolare dal tecnico Corini che in attacco punterà su Dacruz sul grande ex Maniero domani per i Biancazzurri seduta singola al mattino giovedì pomeriggio alle ore 15 amichevole al Poggio con il Francavilla testimoniare ai più giovani l'esperienza che lo ha portato ad essere assistente arbitrale di rango internazionale Elenito Di Liberatore ha incontrato ieri i ragazzi dell'ASD Curi nell'aula magna del liceo scientifico Da Vinci di Pescara evento fortemente voluto dal presidente della società di calcio giovanile Antonio Martorella con i due interlocutori abbiamo anche parlato di VAR e della situazione attuale del Pescara il servizio di Vestina News Elenito Di Liberatore è spiegare l'educazione nello sport a questi giovani atleti o gli atleti del futuro è stato semplice perché ha avuto una platea attenta si vede che c'è un lavoro alla base da parte della dirigenza e delle famiglie ovviamente ribadire certi concetti aiuta sempre affinché loro possano centrare gli obiettivi che è quello di arrivare il più lontano possibile sicuramente investendo su loro stessi chi gioca lealmente vince sempre perché noi crediamo che la lealtà sportiva sia una delle strade per arrivare anche a una cultura della legalità civica noi crediamo che attraverso lo sport i nostri ragazzi possano essere degli uomini migliori in futuro anche se non faranno i calciatori professionisti quindi è un tema sentito siamo contenti di averlo sviluppato nell'aula magna del liceo scientifico e quindi insomma è stato un pomeriggio importante per noi tanto quanto quello del 2 settembre quando venne Massimiliano Allegri a trovarci Da quest'anno avete l'aiuto del VAR come vi siete calati su questa novità? Ci siamo calati bene oserei dire perché tutto ciò che può aiutare la performance arbitrale è ben accetto ovviamente stiamo lavorando per ottimizzare ulteriormente questi equilibri Una cosa che farà bene al calcio o comunque susciterà sempre delle polemiche? Ma no io parto dal presupposto che comunque è necessario anche avere un certo atteggiamento culturale nei confronti dei fruttitori del calcio lavoriamo anche sulla parte culturale quella tecnologica e quella arbitrale noi ci impegneremo al massimo affinché si riducano il più possibile gli errori Secondo lei Zeman può essere la scelta ancora giusta o va rivisto qualcosa? Io dissi a inizio anno magari attirandomi anche qualche antipatia che non vedevo il Pescara fra le prime due l'importante è che il Pescara sia fra le prime otto il Pescara deve assolutamente rimanere agganciato al treno dei playoff pur sapendo che probabilmente ci sono almeno due o tre squadre più attrezzate non si deve perdere fiducia e si deve recuperare la brillantezza bisogna che ci sia una saldatura tra staff tecnico calciatori società e pubblico che non deve abbandonare la squadra in questo momento e ora la serie C e parliamo di Teramo oggi doppia seduta per la squadra di Asta che prepara il prossimo impegno quello di sabato alle 18.30 Reggio Emilia contro la Reggiana dopo l'importante vittoria di sabato scorso con il Fano torneranno a disposizione dopo aver scontato il turno di scolifica il portiere Calore e il difensore Caidi mentre il centrocampista Amadio tornerà gradualmente in gruppo dopo l'infortunio muscolare accusato contro la San Benedettese la gara con il Fano è stata risolta dal gol di Bacio Terracino su assist di Tulli un giocatore dal quale il Teramo aspetta ancora di vedere il meglio delle sue prestazioni visto che finora è stata una mezza delusione vediamo Giacomo si respira un po' meglio dopo la vittoria contro il Fano sì decisamente perché comunque era una partita troppo importante per allontanarci da quella zona pericolosa abbiamo portato a casa tre punti e adesso cerchiamo di chiudere bene questo fine di campionato e passare le vacanze tranquilli immagino che tu ne abbia lette e sentite tante sul reparto avanzato ma tu che del reparto avanzato sei parte cosa pensi di questa astinenza alla gol? io penso che ormai dobbiamo cercare solo di fare più punti possibili e non fissarci troppo sul gol perché sicuramente dobbiamo migliorare tanto perché non è possibile che anche sabato in 90 minuti abbiamo fatto pochi tiri in porta e sicuramente abbiamo dei limiti e dobbiamo fare qualcosa in più purtroppo non sappiamo perché è importante vincere la partita e portare più punti possibili in cascina adesso e poi con calma ci lavoreremo tu li aspetta il vero Tulli? no io cerco di dare sempre il massimo e voi sarete a giudicare il vero Tulli o il falso Tulli non lo so però ognuno di noi da sempre il massimo e poi certo quando uno gioca bene sempre fa piacere sabato ci sarà un altro impegno difficile diverso da quello contro il Fano però la Reggiana arriva da una lunga striscia di risultati positivi e non sarà facile no assolutamente è una squadra in salute con buoni giocatori non è facile ma purtroppo in questo campionato tutte partite difficili quindi andiamo là e ce la giochiamo firmeresti per un pareggio a Reggio Emilia e poi magari vincere l'ultima contro il Mestre ma se è così sì firmerei però nel calcio non si sa mai perché ci sta anche che andiamo là a fare il colpaccio come a fare una partita da 0 a 0 quindi andiamo l'avviso aperto abbiamo dimostrato che forse solo Pordenone ci ha messo un po' i piedi in testa in questo campionato quindi andiamo a giocarcelo è tutto per questa prima edizione del TG6 le prossime alle ore 19 e alle ore 23 poi a proposito di Teramo vi ricordo l'appuntamento di questa sera ore 21 con ProTeramo la trasmissione condotta da Jacopo Forcella grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per la visione